Il furto gli era riuscito, ma le tracce di sangue lasciate lo hanno tradito. Un 32enne di nazionalità albanese è stato così individuato dai carabinieri di Tiene come presunto responsabile di un colpo avvenuto circa sei mesi fa in un'abitazione nei dintorni di Breganze, dalla quale erano spariti alcuni oggetti in oro. Gli uomini dell'arma avevano infatti notato al momento del sopralluogo la presenza di alcune macchie di sangue vicino all'infisso che era stato forzato per entrare in casa. Le tracce sono state rilevate e analizzate in collaborazione col RIS di Parma. Ne è emerso il DNA corrispondente a quello del presunto ladro già schedato in quanto responsabile in passato di altri reati simili. Il 32enne è stato così denunciato alla procura di Vicenza che ha richiesto e ottenuto dal GIP un provvedimento di custodia cautelare in carcere. L'uomo, una volta rintracciato, è stato portato alla casa circondariale di Vicenza.